Non ci credo, sì ma 2006, 2006 Petrus, da 2006 quanto vale sta bottiglia? Per me vale più di 10.000, vale anche 15.000 pezzi per gli impiegati Perché vuol dire 15.000 pezzi per gli espressioni? 15.000, perché gli impiegati sono i crupieri del casino, no? Quindi quando si vince o si perde, ho dato 5.000 pezzi agli impiegati Spiega, Lorenzo, che sei più bravo di me Apriamo, apriamo, apriamo Tanto apri, te fermi, musica intanto Sono emozionato Emozionato? 5.000 pezzi per gli impiegati